Questo è tutto ciò che criticherei di qualcuno che viene in posto e dico tale bellezza, dico tanta meraviglia, il Prince del Panto dei Princi, stupendo, no? Se io vedessi questi due burini, guarda questi due arricchiti, burini, neanche magari arricchiti, magari, uno status al quale andisco da anni, se fanno il video, fanno cacciare, adesso viene come Steven il pallone, no? Steven il pallone, cartellino giallo, hai fatto lo schiumone con la crema di mamma e si è fatta le verruche. Questo è tutto ciò che non vuole vedere da parte di qualcuno, però per 30 secondi, all'angoletto, perché mi sono messo nell'angoletto, nell'angoletto allo spigolo si può fare, secondo te sto male? Fai la per te, arrivo Steven, hai portato il pallone.